Ciao Pierluigi, ciao Rita, sono arrivata a Roma e mi trovo al Piper, lo storico locale che ha lanciato Patti Bravo. Andiamo a sentire se si ricordano il suo pensiero stupendo. E tu? Ma lei è un ragazzo del Piper? E noi? Guardi, non ho ancora mangiato. E lei? Tra noi? Te la ricorda Patti? E? Vorrei? Ma so? Stupendo! Magari! Che lei, oh no, le mani, le sue, pensiero stupendo, che sei fuori o no? No, che sei un po' così sciando, io però non ci andavo al Piper. Se si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu ancora e noi, ancora e noi, un'altra volta tra noi, le mani, questa volta sei tu. E lei, lei ha poco, ha poco, di più, di più. E più, c'è questione di cuore, se così si può dire. Hai capito di che parla? Sì, di noi. Di noi? Di me e te? Di noi, sì. Di me e te? Sì, certo. Tra noi. Tra noi? Sempre. C'è lei. Andrà a lunga, se non lo sa. Siamo sicuri? No, no, no. Noi, tra noi. No, no, no.